Salve a tutti e bentornati in questo secondo episodio della campagna con Ikit Klo e il clan Skryer. Su Total War Warhammer 2 riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio, ossia il primo. Bene, ma va bene, riprendiamo quindi la nostra avventura e, signori, vi ringrazio veramente. Ovviamente lo farei personalmente stringendovi da mano, uno ad uno, per tutti i commenti che mi avete già lasciato nell'arco di praticamente una giornata dall'uscita del primo episodio. Sono contento che la campagna vi piaccia, vi stia interessando, che la fazione vi piaccia e spero ovviamente di continuare a intrattenervi con questi episodi. Quindi, che il grande Ratto Cornuto mi sia vicino nella portarvi il miglior contenuto possibile. Detto ciò, ora ringraziandovi tutti quanti, è anche giunto il momento, del Consiglio di Guerra. O meglio, in questo caso, per questa campagna, il Consiglio di Guerra prenderà una nuova veste. E da questo momento sarà la Ratto Consulta. Ringrazio Tirannos per avermi dato un po' anche, diciamo, lo spunto per questo nome. E, detto questo, i miei cari compagni del Consiglio dei Tredici e quindi della Ratto Consulta, che è un consiglio interno al Clan Skryer, definiamolo. Un consiglio che si va un pochettino ad allontanare, che vuole agire nell'ombra, ancora di più rispetto al Consiglio dei Tredici che lavora per tutti gli Skaven. Noi lavoriamo per il Clan Skryer e non facciamo male a farlo. In ogni caso, prima questione, e anche qui avete dato veramente fondo alla vostra fantasia, per il nome del nostro primo, diciamo, Lord, Vale Quint Marz, qui, cattualmente. Che, insomma, è un nome un pochettino troppo ostico. Io direi che, appunto, è il momento di modificarlo prontamente. E mi avete, appunto, anche qui proposto veramente tanti nomi. Io ho deciso di tenerli tutti quanti, me li sono segnati, quindi non verranno sprecati i nomi che non sono stati scelti. Ne ho selezionato uno casualmente. Ho fatto, attraverso un sito online di estrazione, dando un numero a ogni nome, ed estraendo con il numero associato, ed è venuto fuori un nome in particolare, che è questo qua. Che è questo qua. Attenzione signori, perché questo nome... Anzi, così... Guglielmo Rattoni. Meraviglioso, ringrazio Petra Puffo per aver suggerito questo nome sicuramente meraviglioso. Ma, come detto, tutti gli altri verranno ritirati fuori quando creeremo nuovi leader, quindi nuovi generali e nuovi lord per il potente Clan Scrier. Detto ciò, risolta anche questa questione, direi di navigare lesti verso i commenti più importanti, più interessanti, non in senso assoluto, ma nel senso dei consigli, diciamo, utili per i nostri fini malefici, per la vittoria del Clan Scrier, appunto. E sono molti anche consigli legati al nuovo DLC, che a quanto pare parecchi di voi si sono già presi, e insomma, significa che ha colpito nel segno questo DLC. Magari lasciate anche un parere, perché no, per confrontarci un po'. Direi subitissimo, quindi, di proseguire con un commento, che è quello di Davide. Davide ha lasciato anche parecchi commenti, ma voglio selezionare questo in particolare, perché, che cosa ci dice essenzialmente Davide? Ci dice di prendere essenzialmente queste due zone, queste due città, e quindi il fiume Cervesa, una provincia intera, composta da queste due città. Un insediamento maggiore abbandonato è, appunto, Estuario del Cervesa, che è una città minore, appartenente, vi ricordo, ai nostri attuali nemici, gli ammutinati della Costa dei Vampiri. Una fazione di non morti pirati, che abbiamo già affrontato nel primo episodio. Mentre, a sud, abbiamo il clan Spittel, che potremmo invece farci, diciamo, non dico amico, ma quantomeno tenerlo buono con un patto di non aggressione. Una volta risolta la situazione qui, non andare a nord, a, diciamo, impelagarci in una situazione sicuramente difficile, nelle paludi del sangue e vicino alle zone appartenenti a quel folle, a quel pazzo scatenato, oserebbe dire, Monti Montemagno di Luthor Arcon. Un pazzo furioso. Che mi tratti sempre da matto. Questo è un pazzo scatenato, un pazzo scatenato. E non le mosse le fa? E non le mosse le fa? Che sicuramente sta iniziando già a fare danni quassù. Noi staremo lontani dalla Costa dei Vampiri. E proseguiremo invece nell'entroterra, dice Davide. Verso Itza, verso Quezza, verso questa fazione, appunto, che è Itza, dei uomini lucertole. Io mi ritrovo abbastanza d'accordo con quello che ci consiglia Davide, perché vorrei togliermi di mezzo almeno una delle fazioni principali dei Viserman nella zona, prima che diventi troppo forte e sfruttare, diciamo, le nostre abilità. Cosa che mi suggerisce anche Usagi, che ringrazio. E suggerisce, oltre a un attimo spiegarmi meglio come funzionano le dinamiche nuove, assolutamente interessanti, che comunque scopriremo mano a mano. Ma Usagi suggerisce di utilizzare bene le città sotterranee. E perché non utilizzare la città sotterranea che Goielmo Rattoni, il nostro amabile topo, ingegnere, stregone, oltretutto, può creare sotto Itza, che è da queste parti, vi ricordo. Itza dovrebbe essere qui, all'incirca, poco più a sud, forse. In ogni caso, Itza è uno di quegli insediamenti molto importanti e molto fortificati. Potremmo iniziare a rodare le fondamenta di Itza proprio con questa abilità. E utilizzare, vi ricordo, il razzo fatale della Tempesta Warp. Che, insomma, è la nostra nuke. Noi lanciamo la nuke come su Call of Duty. Wow. 360, no scope, nuke. E tanti saluti ai cari Lizerman. Wow. Dicendo questa sequela di parole, mi sembra di ritornare nel 2010. Anche più in là, 2008, 2009. Un periodo forse un po' oscuro, però va bene. In ogni caso, direi di proseguire con un altro commento, che è quello dell'imbucato. Anche lui, ovviamente, suggerisce, eliminiamo le cose morte, le death things, o things, come direbbero gli Skaven. The death things. Le cose morte che ci stanno vicino. Le esogliamo di mezzo. Cerca di utilizzare molto, e cosa che ci diceva anche Usagi, le unità da tiro particolari che abbiamo a disposizione. Che ovviamente sono le Rattling Gun, di cui mi sono follemente innamorato, e i Jet Sail. Sono due unità bellissime, molto forti, oltretutto. I Jet Sail sono ottimi anche contro unità corazzate. Diciamo che sono dei deterrenti utili per unità con armatura spessa. Assolutamente importante. Altra cosa che ci suggerisce l'imbucato, direi anche di andare a mettere a posto un po' l'ordine pubblico, per poi sostituire, diciamo, l'editto con l'editto del cibo. Un'altra cosa che abbiamo letto anche nel commento di Usagi, e lo utilizzerò molto perché è uno di quei commenti che ogni tanto mi tirate fuori estremamente ricco di informazioni, e quindi tocca un po' tutti gli aspetti, i Riti, che non abbiamo visto l'altra volta. Sono sempre i soliti Riti a disposizione della stazione Skaven. Però, giusto per fare un appunto, questi due sono Riti che utilizzeremo tantissimo, perché questo ci dà cibo per turno. Crescita, ordine pubblico, tutte cose utili. Per averlo bisognerà prendere un decreto che è mire espansionistiche. Mire espansionistiche lo dovremo mettere in una nostra provincia, probabilmente la prossima che lo conquisteremo metteremo appunto questo decreto, per avere il complotto principale. Il tredicesimo complotto, invece, a parte i rapporti diplomatici, però è utilissimo invece per mantenere la lealtà dei nostri lord alta, oltre all'utilità per le azioni degli eroi, sia nostri sia nemici, per la riduzione ovviamente, in questo secondo caso. E infine l'abilità Pietra del Clan Scribe, che è un'abilità buona, può esserci utile, insomma, sono due Riti interessantissimi. Anche abbastanza il primo costoso, il secondo meno, ma che dobbiamo tenere bene in considerazione. Quindi sicuramente lo faremo. E poi appunto l'editto, sì, sono d'accordo per il cibo, cerchiamo di tenerlo alto, almeno nella prima parte della campagna, poi sarà sempre più difficile, però ci proveremo, ci proveremo sicuramente. Poi abbiamo Olgerd, che ringrazio ovviamente per avermi dato una panoramica anche su quello che è l'inizio, diciamo la posizione di partenza di Ikit, nella campagna Mortal, che non abbiamo qui in questo caso, noi siamo neanche la Vortex, è per intenderci. Torneremo in Mortal, forse non lo so, nella campagna che faremo più avanti, decideremo insieme quale fare, anche se molto cotta Tamorati, in ogni caso, proseguendo, interessantissima come posizione Skaven Blight, la capitale di tutta la civiltà Skaven. Noi qui invece partiamo sull'isolotto sperduto, ma va bene, ci accontentiamo di quello che abbiamo. In ogni caso, anche qui, Olgerd ha essenzialmente colpito nel punto di quello che abbiamo già appena visto, il complotto principale e il tredicesimo complotto. Falli a Iosa, essenzialmente sì, facciamoli a Iosa e utilizziamoli. Non essere dirco con i combustibili Warp, questa magnifica sostanza. Dobbiamo utilizzarli tanto nella fucina proibita, senza troppe, diciamo, senza troppe remore, perché ci serve, ci serve migliorare le nostre unità e renderle sempre più efficaci sul campo di battaglia per fare letteralmente i buchi al nemico. Quindi sono d'accordo, io tendo ad essere invece abbastanza tirchio, grazie per avermi riportato sulla via dello spendaccione. Non sono neanche genovese, però va bene, sono marchigiano. E soprattutto le marche del nord, tralasciando un pochettino un attimo la questione campagna total war, soprattutto i marchigiani del nord, insomma, erano un po' gli esattori delle tasse del regno pontificio, dello stato pontificio, perché regno non è corretto, ma è stato e corretto, e forse sta qui un pochettino il mio volere essere tirchio. Mi dispiace, ragazzi, spero di non esserlo più di troppo. In ogni caso, tornando a noi, alla campagna, Power! Unlimited power! Come dice Palpatine, o Palpatine, se vogliamo utilizzare l'espressione più italiana, ci scambiamo Palpatine, citando un video di uno youtuber molto noto. E sicuramente importante per noi arrivare a questo potere, dobbiamo detenerlo. Ci rifaremo rispetto alla campagna con Scroic, ve lo prometto, ci rifaremo, e invece finirà malissimo. Ma va bene, è uguale, ci proviamo, quantomeno. Dai, ci proviamo. Poi abbiamo Zombie, che insomma, Zombie invece non ci lascia dei consigli veri e propri, però sono contento, perché lo prendo un po' come commento di riferimento, poi ce ne sono tanti altri. Magari facciamo un decoupage. In ogni caso, sono molto contento che i ratti vi piacciono, gli Skaven, chiamiamoli come vanno chiamati. Un po' per tanti aspetti. Qui i zombie, ci dicono, essenzialmente sono una fazione interessante perché hanno anche tanta tecnologia, tecnologia deviata, basata sulla Warpstone, quindi una tecnologia pericolosissima anche per chi la utilizza. Una tecnologia che può essere un'arma a doppio taglio, e vi ricordo semplicemente che la Warpstone chiamiamola materiale radioattivo, perché questo è un materiale vomitato dal Warp. E poi cos'altro? Beh, hanno un missile nucleare. Nuculare! Si pronuncia nuculare! Bene, volevo sfruttare questo commento in questo modo, lo ammetto, lo ammetto. E infine, ringrazio Marco Mattioli e Savior per avermi dato un po' di consigli utili per gli enigmi. Io sono negato, come vi dicevo nell'altro episodio, negatissimo in logica, veramente pessimo, e ahimè, ripeto, è un mio limite, però mi avete dato un po' di suggerimenti utili e spero di poterli utilizzare in futuro per magari riuscire a venirne a capo. Ci proverò, ovviamente ci proverò. In ogni caso, direi, bando le ciance e lanciamoci, signori, verso la conquista del mondo da sottoterra con il clan Scryer. Allora, eravamo rimasti con questa situazione. Ora, dobbiamo un attimo riprenderci con Ikith, che ha un esercito un attimo diciamo a groviera a Hemmental. Voilà, che bello l'Elemental. Quanta cazza è buono l'Elemental, direbbe Ikith, che ovviamente sappiamo all'amore degli Skaven per il formaggio. In ogni caso, andremo a Estario del Cerveza il prima possibile. A livello di diplomazia, cerchiamo di fare quello che ci ha suggerito Davide. Lo proverei a fare, proprio mi piace quello che ha suggerito, mi piace proprio tanto. Proviamoci, vediamo un po'. Per il momento ho rifiutato, ma va bene. Stiamocene fermi e buoni così, che comunque ci sta, miglioreranno i rapporti, magari miglioreranno, oppure ci dichiareranno guerra immediatamente. Altro da fare attualmente non l'abbiamo. La corruzione dobbiamo portarla un po' più in alto come ci suggeriva Usagi prima. E direi di passare il turno. Non attendiamo, abbiamo molto da fare in realtà. si prospetta una campagna tosta, però si prospetta anche una campagna ricca di avvenimenti e quindi mi auguro interessante. Sicuramente io gioco Skaven e quando gioco Skaven pur nella loro difficoltà sono contento di gestire una fazione come questa. Soprattutto perché ora abbiamo un sacco di roba nuova da vedere e la scopriremo mano a mano come vi dicevo. però è roba che rende effettivamente le fazioni Skaven più forti. Anche semplicemente la meccanica che ha il Clans Cryer della fucina proibita è interessantissima ma in generale quella dell'Indo Imperio e quindi della possibilità di creare strutture sotterranee sotto le altre città indebolendole è meraviglioso letteralmente meraviglioso. In ogni caso allora qui dobbiamo migliorare ancora un po'. Andremo di spam Elementare Watson perché è tutto quello che abbiamo attualmente niente di che i reggimenti della fama non ce li abbiamo di sicuro ancora però va bene li avremo spero un giorno ci prendiamo un po' di questi un altro lanciere con scudo e arriviamo quasi ad essere pieni così nel frattempo continuiamo a riprenderci e invece con il nostro Guglielmo caro Guglielmo andiamo un po' a vedere che cosa si attende nell'entroterra Itza ecco Itza Rinki che è un nome più da 5 in realtà è un Sauro ed è il Sauro che attualmente sta presidiando Itza la grande roccaforte che cos'è un punto strategico anche Axotl in realtà lo è dobbiamo muoverci perché non voglio che mi vanno a prendere Axotl loro prima del mio arrivo dobbiamo essere lesti poi 1400 allora non posso farli attualmente dovrei modificare qui potrei anche farlo ma per il momento aspettiamo un pochettino la fucina proibita allora possiamo migliorare la rotta del fatto ancora no le squadre di arma getta fiamme non ne abbiamo abbiamo queste abbiamo il razzo fatale questo non è male questo ok ancora non ci interessa questo ci potrebbe essere utile anche questo questo è interessantissimo però questo è più generico e per il momento facciamo questo perché un più 5% di magia quando si parte schifo non fa soprattutto con Ikit che è un lord che ha anche parecchie magie dalla sua da utilizzare quindi utilizziamola al meglio vediamo i rapporti diplomatici con il clan Swipple è ancora neutrale vediamo un po' se lo accetta questa volta no non lo accetta dovremmo offrirvi un po' di soldi proviamo a offrire un po' di soldi dato che ne abbiamo un pochetto non molti ne offriamo 300 anzi facciamo un numero pieno facciamo un 500 così niente non sono più di 500 non glielo do non sono molto avvezze ancora questi schifosi vc nostri cari parenti 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 serpenti come si suol dire veramente pessimi comunque vabbè è una cosa solita in realtà la razza Skaven non è unita più di tanto è una razza che si si va un pochettino a spaccare in continuazione ed è più le volte che è spaccata che nelle volte che è unita perché se fossero uniti in continuazione e in maniera costante probabilmente ok 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 si cerca tesori in qualsiasi incidemente rovina qui l'abbiamo appena fatto purtroppo quindi non credo sia possibile rifarlo andiamo avanti ad esplorare piuttosto in ogni caso vi dicevo e per fortuna insomma che ecco gli Skaven sono abbastanza divisi perché se fossero uniti probabilmente non lo so non lo so come potrebbe essere la situazione nel nel carrevecchio mondo ma anche in quello nuovo ovviamente allora qui ci mettiamo sulla nostra isoletta ok l'ordine pubblico rimane stazionario ci mettiamo così e anzi riusciamo ad andarci qua si perfetto ahia oh Leninat un altro esercito di non morti potrebbe darci fastidio ok maledizione è pieno ed è in modalità in marcia chissà se punta nord o punta sud punta l'arcone o punta ikit signori lanciate pure i dadi lo vedremo nel prossimo passaggio turno vediamo un po' dove va quell'esercito di maledettissimi ammutinati ammutinati dalla peggior specie oltretutto maledetti schifosi maledetti maledetti sono curioso sono veramente curioso ok fanno un giro che non mi piace per niente non mi piace per nessun motivo ma proprio zero ma proprio zero assolutamente no tra le altre razze ci sono sempre degli sciocchi sventurati attratti dalle tue parole cattivanti stipula un patto di non aggressione e comincia ad affinare il coltello per quando sarà l'ora di infrangerlo interessante firma un patto di non aggressione con la seguente affazione costa dei vampiri le cose morte guidate da un pazzo sono guidate da un pazzo ma sarebbe un alleato vantaggioso da sfruttare come arma contro i vampiri è un piano molto astuto e quando lo colpiremo uccideremo più avanti diremo che quel morto pazzo ci ha salito in preda a una rabbia folle yes yes è deciso meravigliosi piani da attuare con luther ok ok però un problema adesso qui siamo un pochettino a un impasse perché non ci arriviamo neanche maledizione dobbiamo tornare indietro a difenderci oppure attaccare solo che non arriviamo a lambire niente né a nord né a sud e qui lasciare abbandonata tutta la zona non è un granché non mi piace tanto questa situazione allora possiamo reclutare magari un lord da tappabuchi allora un veggente grigio un signore della guerra un maestro stregone che non è male non è male maestro stregone non è male per niente disciplina attacco corpo a corpo a tutte le note alleate la gente grigio rovina pustin reclutiamolo per il momento e cerchiamo di reclutare un pochettino di rovina e e poi di questo qui noi in frattempo invece la via sotterranea non possiamo attaccarli direttamente qui prendiamo un sacco di lavoramento e non è bene perché così tanto non per il vampirismo non è ancora così forte in realtà però prendiamo danno logramento ah e comunque no è la corruzione vampirica ok me lo dice qui quindi niente ce la puppiamo e basta oppure possiamo muovere così non ci arriviamo comunque sia no no non ci arriviamo però stiamo buoni fermi qui e ci pensiamo è un po' un azzardo quello che ho fatto me ne rendo conto ragazzi tranquilli è tutto sotto controllo non è vero non è tutto sotto controllo ma è un azzardo di quelli che secondo me vanno fatti bisogna provare a fare quantomeno allora vediamo un attimo clan spittle volete accettare un patto in un'aggressione con noi per favore no ovviamente abbiamo anche il clan mangio da questa parte che lo vedo più più incline bravo molto più incline loro molto più carini allora dobbiamo fare un trattato di un'aggressione un patto di un'aggressione con Luthor che non accetta benissimo grazie Luthor sei sempre molto 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 incline molto prono alla diplomazia come nella campagna col conte Noctilus grazie mille Luthor veramente sei sempre una gioia non capisci niente non capisci allora non è possibile che questo questo pirata tutto rimbacillito da da un antichissimo potere dei Leatherman non capisca niente al punto tale di non accettare nulla da me nulla mai guarda dichiarata clan mangiare le sentinele meridionali loro tornano indietro il che mi va bene il mio azzardo è andato a buon fine grande sono contentissimo di ciò mi rallegra il fatto che per una volta i miei azzardi portino a qualcosa di decente e non alla completa disfatta e abbiamo anche Pustin ora allora qui c'è una rivolta il che mi va anche bene io attacco ok nessun equipaggiamento però noi abbiamo questo da dare direi alle Ratlingan ok e la combattiamo vediamo un attimo la mappa come messa che cos'hanno loro piomba morte un po' di archibugi un po' di banda di zombie pirati marinai quelli con le picche e un cadavere gonfio in una mappa molto aperta per noi non tanto perché siamo in una zona molto ricca di bosco siamo leggermente usurati dal diciamo dal clima vampirico ma va bene non è niente di preoccupante direi di combattere questa battaglia e con questa battaglia probabilmente finiremo anche l'episodio perché questa volta lo prometto nell'altro episodio mi ero promesso fin da subito di non farlo lunghissimo perché lo volevo caricare presto e farvelo godere anche magari già dalla notte in realtà mi è venuto fuori un episodio da un'ora con il mio computerino che poveraccio ha i suoi limiti poveracissimo in realtà ci ho messo quattro ore a renderizzare un'ora di video questa volta invece voglio fare un video un pochettino più tranquillo in realtà con questa campagna spesso andrò a perdere il tempo la cognizione temporale perché è una campagna ragazzi troppo bella è troppo cioè gli Skaven voglio dire e finalmente le Rattling hanno tutte le unità che attendevo che desideravo avere certo magari potevano mettere anche gli Stormfind non li hanno voluti mettere peccato se mi mettevano anche gli Stormfind probabilmente sarei morto semplicemente all'annuncio non li hanno messi potevano essere interessanti perché nascono un pochettino dal connubio della diciamo della depravazione del clan Mulder nella genetica nella modificazione dei corpi i Rattogre li hanno inventati loro per intenderci così come l'abominio del Pozzo Infernale l'hanno inventato sempre loro unita all'ammalata tecnologia a base di Warpstone del Clan Scryer e abbiamo lo Stormfind quindi un Rattogre con lanciafiamme doppio devastante devastante allora proviamo a giocare l'azzardo una volta ci va bene ci va bene ci va bene ci va benissimo iniziamo l'ascheramento non abbiamo rinforzi ovviamente no però abbiamo da mettere i nostri slaves davanti mettiamo in una fila lunghina non dico troppo lunga ma abbastanza lunga ci mettiamo i Clan Rats dietro li gruppiamo mettiamo due lance così da una parte e due lance da quest'altra parte gruppiamo questi li gruppiamo poi ci mettiamo allora allora dato che dobbiamo attaccare noi loro davanti le stiro un po' in lunghezza gruppo la Rotling Gun qui sui lati le tengo ok gli scorticatori li faremo uscire anche loro dal lato gruppo e i kit blue che terrei più al centro inizia battaglia ecco oh ok tiriamo subito ci avvicinano loro va bene allora prima cosa direi di avvicinarci un pochettino con loro che devono intervenire lesti qui farei una cosa del genere che dobbiamo coprire bene le nostre Rotling Gun ottimo le rattagliatrici guardiamolo in funzione un attimo è il Vietnam ragazzi è il Vietnam che male che fanno comunque guarda che roba mo mo warzone oddio santo bellissimo ok qui abbiamo iniziato a subire un po' di danni ehi voi cosa state facendo qui tornate indietro non prendete il tiro senza nessun motivo si stanno allontanando va bene fate pure avanti schiantatevi sul ciccione vb gli schiavi all'attacco a subire diciamo il primo impatto che intanto Ikkit ha iniziato a fare del male facciamo una cosa del genere boom ok mi ha fatto male spero di sì tanto i miei schiavi possono subire quel cavolo che vogliono non è un problema ottimo questa unità sta andando ma va bene sacrificabile come al solito vediamo se riesco a tenere fuori no non credo dovevo mandarli dentro vai vai dentro gli schiavi stanno accedendo ma va bene è normale che sia così andiamo a essere pronti vai pronti anche voi qui mandiamo le rattlingar sul lato ottimo qui i nostri jet sail come stanno andando com'è il tiro dei jet sail notiamolo notiamolo cecchinate proprio assurde sembrano i fucili anticarro qui ha ceduto tutto nel frattempo sembrano i fucili anticarro tipo PTRS sovietici della seconda guerra mondiale anticarro che praticamente sono dei dei mega calibri fatti per bucare in realtà le sottili corazzature dei carri di inizio guerra più che altro ma di sicuro inutili contro i panzer più avanzati in ogni caso a parte questa nota storica di commentare un attimo quello che è successo ovviamente era un esercito di guarnigione senza arte ne parte però le doomflare se utilizzate se utilizzate bene gli scorticatori se utilizzate bene su unità fragili soprattutto come unità da tiro io poi non li ho gestiti nel micro le ho lanciate dentro le ho lasciate dentro senza preoccuparmi troppo fanno comunque dei bei danni i jet sail sono meravigliosi cioè anche su unità deboli non solo quelle corazzate ma anche su quelle più deboli fanno dei danni assurdi le rattling hanno neanche a dirlo soltanto ad aprire il fuoco fanno piangere qualsiasi cosa che toccano queste poi con i proiettili incendiari è ancora peggio diciamo questi piova morte hanno avuto un brutto quarto d'ora che è stato anche l'ultimo quarto d'ora quando hanno visto aprire il fuoco di tutta una selva di mitragliatrici a base di warpstone devo dire che contro queste fazioni il problema maggiore attualmente sono i ciccioni che io però ho gestito in maniera tranquillissima con unità qualsiasi l'ho buttata dentro lui gli ho detto vabbè muori basta che lui non mi viene a dar fastidio dove magari può dare più fastidio e fare più male però c'è sempre quest'ottica di diciamo anticonservatismo è giusto le parole che invento ogni tanto chi mi segue lo sa invento parole quando non sono sicuro di intervenire le invento comunque c'è un mancato istinto conservativo ok non volevo usare tutta l'altra fila italiana corretta va bene l'ho utilizzata in ogni caso c'è questo mancato istinto di conservazione che porta gli scaven a suicidarsi sui cadaveri gonfi ma senza battere ciglio proprio del tipo tranquilli andate a morire ammazzati non è un problema poi ovviamente io dico questo loro questi qua questi ragazzacci qua che sono morti sicuramente non erano d'accordo con quello che sono andato a dire pochi secondi fa anche Ikit con le sue magie come detto è un buon lord devo dire che è un bel punto di forza l'utilizzo di queste magie le magie essenzialmente degli stregoni ingegneri sono magie che piacciono almeno a sottoscritto piacciono fanno dei bei danni sono ad area e possono essere anche spammate quindi ottimo veramente molti punti a favore ok parecchio cibo devo dire finalmente e un po' di bottino non molto ma ok un grado livello 3 per Ikit adesso andiamo subito ad arglielo e ci siamo direi di occupare e saccheggiare questo lo dobbiamo fare per forza così occupa e saccheggia è quello che fanno gli Skaven ecco qui c'è espandi impero sotterraneo va bene questo per il momento non lo facciamo però prendere e stringere ce l'abbiamo fatto mille in tesoreria e otto warpstone conquista e occupa questo incidimento quindi missione completata la prima missione dovrebbe essere e abbiamo contro un po' di insorti di onyang di monterotto che sembra una di quelle frazioncine dell'entroterra marchigiano toscano umbro dalle mie parti insomma monterotto c'è un paese che si chiama monte carotto quindi ecco ci si avvicina allora questo non possiamo farlo perché non è male a meno 20 di ricarica tutti gli incantesimi però non possiamo farlo facciamo presenza ispiratrice che la disciplina ci serve e poi vedremo di andare a migliorare le nostre magie come il fumine warp e voilà e qui ci siamo possiamo reclutare un altro ratto schiavo ma ciccia non lo reclutiamo con il nostro pustin attualmente noi lo teniamo qui ma a livello proprio deterrente non di più qui mi sono fatto un tunnel di di armi per sicurezza poi nel caso lo smantelleremo più avanti e invece qua giù o andiamo a esplorare più a sud o andiamo a esplorare più a nord solo che la situazione non è molto carina per l'esplorazione perché è piena di giungle e si muovono male i nostri eroi il nostro guglielmo rattoon bagnate del dell'industria di warpstone per per la creazione di armi guglielmo rattoon la rattling gun è sua è roba sua e diciamo che guglielmo rattoni sta anche cercando di studiare un mark in genio a base warpstone in grado di lanciare onde radio nell'ether nella dimensione etierica e riceverla attraverso i venti della magia quindi da un dispositivo all'altro a distanza poter comunicare la chiameranno un giorno forse quando riuscirà a venirne a capo radio o meglio ratio è orrendo mi rendo conto della schifezza che ho appena detto mi taccio e mi muto anche perché siamo ormai a fine qui mettiamo a posto siamo a fine di questo episodio le cagate le abbiamo dette quindi missione compiuta proviamo un'ultima volta un po' la diplomazia col clan spittle vediamo come va ci riproviamo rifiutano riproviamo anche con luther che magari ha visto un attimo che abbiamo fatto male ai suoi nemici e ci vuole bene non ci vuole bene non capisce niente nel tuo cervello c'è qualcosa che non va lo sai vero maledetto maledetto te schifoso pirata da quattro soldi in ogni caso direi attualmente che possiamo fermarci qui abbiamo preso star del carvezza ora dobbiamo muoverci verso axlotl prendere axlotl vuol dire mettere al sicuro l'intera provincia con questa provincia abbiamo già due province alla nostra parte ma non parliamo troppo presto perché i nemici si annidano là fuori it's a vicina e vedo parecchi corti di scinchi pronti ad affrontarci stiamo attenti perché potrebbero cogliere la palla al bazzo teniamo il nostro eroe nella zona non la mandiamo troppo a nord perché ha un blocco esercito che possiamo utilizzare nel caso le cose si mettano per uccelli senza zuccheri e gestiamocela gestiamocela bene perché qui la situazione non è facile abbiamo un nemico a nord che ogni tanto viene giù con le sue belle barchette e ci minaccia teniamoci per il momento pustin che non voglio ancora rinominare perché magari lo tolgo di mezzo non voglio tenerlo già da inizio campagna voglio aspettare un attimo e avere un pelo migliore un pelo migliore non molto ma un pelo e poi abbiamo dei nemici che appunto vengono da da Monterotto tipico paesino dell'entroterra del centro Italia e dovremo affrontarli questi qua credo credo che ci aspetta una battaglia fratricida come iniziare il prossimo episodio se non abbiamo una battaglia fratricida perfetto in pieno stile scaven signori io vi ringrazio la ratto consulta vi attende lasciate qualsiasi commento utile o qualsiasi commento inutile Ikit è pronto a leggerli insieme a me insieme alla presenza sempre diciamo vivida anche se impalpabile del grande ratto cornuto che ci osserva e ci giudica miei carissimi al prossimo episodio